Dopo un'attesa durata circa 4 anni, John Conda, 21enne originario del Mali, beneficiario del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati, ospite da due anni di una struttura gestita dalla cooperativa sociale Badia Grande che ha sede a Trapani, è stato sottoposto a un trapianto di rene presso l'ISMET di Palermo. L'intervento è durato oltre 4 ore e è riuscito perfettamente. La chiamata da parte dell'istituto è arrivata nella notte fra 7 e 8 dicembre e ha riacceso per il giovane le speranze di una vita migliore dopo tanta preoccupazione. Infatti John Conda è realista d'attesa dal 2016. Fuggito dalla povertà nel suo paese, il ragazzo è arrivato in Italia ad agosto 2014 e poco dopo essere stato accolto nello Sprar di Messina, aveva cominciato ad avvertire disturbi mentre giocava a calcio in una squadra della città dello Stretto. Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto hanno poi evidenziato il malfunzionamento di un rene e il giovane ha iniziato così tre volte a settimana a svolgere la dialisi smettendo anche di giocare al pallone, sua grande passione. Nel frattempo l'iscrizione è in una lista d'attesa per effettuare un trapianto di rene. Lo scorso 31 ottobre, dopo circa quattro anni, si era presentata la prima possibilità di un organo, ma il 21enne era risultato positivo al covid e quindi ha dovuto rinunciare. Poi la seconda inaspettata chiamata in cui gli veniva comunicata la disponibilità di un altro rene. Il beneficiario è stato quindi immediatamente accompagnato presso il centro trapianti di Palermo e sottoposto agli accertamenti del caso. Innanzitutto il tampone che è il risultato negativo, poi la dialisi e tutti gli esami per verificare la compatibilità con il rene del donatore. Subito dopo è stato eseguito l'intervento. Il giovane malessere sarà adesso ricoverato ancora per circa una settimana. E' una gioia infinita per tutti noi, dicono dalla cooperativa sociale Badia Grande, sapere che finalmente il nostro Gion, così lo chiamiamo affettuosamente, grazie al trapianto abbia potuto superare questo momento così difficile che non lo aveva demoralizzato tantissimo e che faceva preoccupare la sua famiglia in Mali e far stare male anche tutti noi.